La passione per me è nata fotografando da piccolo, ho fatto un viaggio con i miei genitori in Norvegia. Quando avevo, ci sembra, 12 anni, mio padre mi diede una Canon, una reflex meccanica, quindi che non aveva neanche le modalità semi-automatiche e automatiche, mi diede questa fotocamera e da quel momento mi sono innamorato perché effettivamente questo strumento mi ha incuriosito. Noi maschietti abbiamo sempre questa propensione, ecco, la chiamerei allo strumento tecnologico. Ecco, da un certo momento in poi la fotografia quindi mi ha sempre accompagnato durante i viaggi, ho fatto dei bei viaggi e quando avevo 20 anni sono andato in India, in Africa, in Namibia, Madagascar e man mano, tornando da uno di questi viaggi, qui vi spiego appunto perché nasce la mia passione, tutti gli amici di miei genitori hanno detto ah, guarda che belle queste foto, guarda che bravo che è Giovanni, eccetera. E da quel momento ho deciso di coltivare quello che sembrava insomma essere un talento, ecco. Non la voglio fare troppo lunga questa cosa. Dopo io ho cominciato, io stavo studiando, mi sono laureato in legge a 26 anni, quindi ho sempre parallelamente alla mia attività di studente, ho continuato a praticare la fotografia però sono arrivato a laurearmi in legge e sentivo sempre crescere questa passione. Da quel momento ho iniziato a fare il lavoro di rappresentante, agente di commercio, vuoi area manager, vuoi vari settori. Prima vendevo i falegnami, vendevo cerniere, guida per cassetti di una multinazionale anche importante, austriaca, dove ho fatto una bella esperienza. Sono stato in qualche modo obbligato a passare le mie giornate in auto, raggiungendo i clienti in tutto il nord Italia. E quindi mi è la passione per la fotografia, quindi l'ho sempre avuta e in maniera quasi naturale cominciavo a osservare il paesaggio in maniera un po' più approfondita. Quindi questa esperienza di vivere il territorio da tutto di vista visivo perlomeno, 8, 10, 12 ore al giorno, costantemente trasferendomi da un posto all'altro, mi ha dato in qualche modo una... mi è venuta dentro di me una voglia, una... quasi una necessità di raccontare questa mia visione, che è un po' particolare, perché chi è che passa le giornate davanti, diciamo, nelle strade di provincia, dalla mattina alla sera, o un camionista, o un rappresentante. E quindi ho messo a frutto questa mia esperienza di visione, proprio per fare un lavoro sul paesaggio. Infatti il mio lavoro di fotografia, che è un lavoro personale sul paesaggio, riguarda appunto questi luoghi di mezzo tra le province. Io ho viaggiato, ho percorso quindi per oltre dieci anni le strade di provincia e in qualche modo mi sono appassionato di paesaggio. Dico appassionato perché fino all'età di 39 anni, io ho continuato a essere un agente di commercio con la passione della fotografia. Questa passione è diventata tale che a un certo punto della mia vita non sono riuscito a dire sempre di sì al mio capo, perché di base dentro di me ho sempre saputo che volevo fare il fotografo e a un certo punto ho detto no, io voglio fare il fotografo a tutti i costi. ho lasciato l'azienda e ho creato questo studio che si chiama Fotogenia dove anche attualmente, che ho 45 anni, insegno fotografia e offro servizi fotografici. volevo in qualche modo darvi una piccola introduzione sulla sulla mia storia personale per capire i discorsi che vi farò oggi. Oggi voglio darvi non so quanti ma dei buoni motivi per fare fotografia. Ecco, innanzitutto la fotografia per me è passione. La mia fotografia di paesaggio per chi mi conosce già è una fotografia che ha un senso civile. Cioè, perché ti propongo queste fotografie? Ti propongo queste fotografie soprattutto nei luoghi di mezzo e quindi non necessariamente nei luoghi abbandonati, ma ti mostro quali sono i luoghi di mezzo. Cosa c'è tra provincia e provincia? In qualche modo ti rendo partecipe di una mia visione, una visione che non è fine a se stessa, guarda questo paesaggio che bello. Certo, la forma c'entra sempre, quindi la bellezza in qualche modo aiuta al messaggio venire fuori. Ma qual è il messaggio? Il messaggio è stare attento, renditi conto, apri gli occhi, guarda il mondo con occhi diversi, perché se tu non riconosci il valore di questi luoghi di mezzo, forse c'è il rischio che tu ti dimentichi. Ti dimentichi di cosa? Ti dimentichi che questi spazi, magari attualmente ancora vuoti, hanno un valore molto importante per le generazioni future. Questi spazi vuoti potranno essere occupati, se non li vedi non riuscirai neanche a tutelarli. Ecco, questo è il messaggio. Quindi partendo dalla visione, certamente dalla bellezza, io cerco di tutelare il territorio da tutti quegli abusi che sono stati fatti, da tutti gli abusi edilizi, volumi di costruzione scambiati in cambio di urbanizzazione. Ecco, non volevi farla troppo difficile. Questo è il mio motivo per quanto riguarda la fotografia di paesaggio. Ma faccio fotografia sostanzialmente perché è bello farla, perché ti racconta delle storie minori, ti racconta il modo in cui altri uomini hanno visto il mondo, hanno guardato il mondo. Quindi fotografia non solo se fai paesaggio, non solo se decidi di farla diventare una professione, ma fotografia per tutti. Perché fotografia in buona sostanza la facciamo già tutti, anche se non abbiamo il cellulare, anche se non abbiamo una fotocamera. La fotografia di base è una registrazione, almeno per la mia visione, per quanto mi riguarda, una registrazione del mondo. Quindi nasce dalla visione la fotografia. E perché fare fotografia oggi è importante? È importante perché in buona sostanza ha sempre a che fare con l'uomo, così come lo sono i video, così come è la cinematografia. Quindi in buona sostanza facciamo fotografia anche per rilassarci, anche per godere del mondo e con queste nostre registrazioni che possono essere semplicemente delle memorie visive. Quindi senza l'atto del fotografare, ci arricchiscono perché ci danno in buona sostanza, ci fanno capire dove siamo, ci fanno ricordare i luoghi che abbiamo percorso. Chi non è appassionato, chi non ha memoria di un luogo del cuore, magari dove ha avuto un'esperienza meravigliosa. Quindi fare fotografia serve a noi stessi prima di tutto, ad arricchirci di queste visioni. Sì. 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 chi non sa niente di fotografia, proprio perché la fotografia è un linguaggio attuale, è un linguaggio sempre valido, è un linguaggio universale, non puoi fare a meno oggi della fotografia, puoi prescindere da un corso ma non puoi prescindere dalla fotografia, quindi tanto vale che tu ti impossessi in qualche modo di questa disciplina, perché è una disciplina che ti ritroverai sempre, è una disciplina che dovrai sempre confrontarti con una brutta immagine o potrai decidere in qualche modo, anche se non vuoi diventare fotografo, potrai decidere di governare questi piccoli principi che ti consentono di raggiungere un'immagine migliore, un'immagine migliore fa sempre comodo, sia che tu sia un avvocato, sia che tu sia un meccanico, cioè la fotografia in qualche modo descrive, facciamoci descrivere meglio da questa fotografia, basta poco, piccolo sforzo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! anche perché come ti sto mostrando tu guardando le cose cioè cercando punti di vista ti ritrovi le cose sotto gli occhi ti ritrovi la meraviglia del mondo sotto la migliore luce possibile se non fai fotografia non le vedi queste cose non le vivi chi è che rischia di stare al freddo e al gelo in aperta campagna se non un fotografo i momenti migliori sono dopo il tramonto non quando c'è ancora il sole in cielo ricordatevi questa cosa se volete ottenere il massimo dalle vostre fotografie un'altra cosa Grazie a tutti. Ragazzi per me è tutto, ho cercato di spiegarvi quali sono i motivi per cui ci si appassiona la fotografia, quindi non occorre sempre avere il cavalletto e grandi attrezzature per fare le foto, a volte basta un po' di attenzione, quindi sottoscrivete per cortesia il canale e continuate. Fate seguirmi perché questo è un progetto che si fonda sulla vostra partecipazione, fatemi domande, infatti una mia amica mi chiede, ma l'altra volta se ne ha detto che l'aglio piccolo è come era meglio posizionare il proprio corpo per fare una foto migliore? Un po' alla volta le vedremo un po' tutte, sapete che io faccio corsi di fotografia di professione quindi non potrò dirvi proprio tutto, però cerco comunque di darvi dei consigli. Soprattutto mi riferisco alle persone che non faranno mai fotografia o meglio, mi riferisco anche alle persone che magari non avranno mai il tempo per dedicarsi alla fotografia. Questo non vuol dire che la fotografia possa in qualche modo tornare utile, guardate che meraviglia. Quando sei, quando si fa una bella fotografia? Una bella fotografia la fai venendo nei momenti migliori. Ancora più di una grande macchina fotografica ti serve una luce che dia efficacia al mondo, ai soggetti. Guardate che meraviglia, guardate che colori, guardate via via che la luce decresce, c'è meno contrasto, ma la luce essendo diffusa descrive in maniera veramente pittoresca il paesaggio. Quindi ragazzi vi aspetto numerosi, iscrivetevi al canale, fate passaparola, a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.